Bentornati su Denot, oggi voglio proporre un video per quanto riguarda una serie di video riguardante il nuovo Battletomb dei DEF, Soulblight Cavers. Dato che c'è molto da dire ho deciso di realizzare dei focus per ogni parte per quanto riguarda questo Battletomb, in modo che possiate andare a vedere quello a cui siete interessati senza creare un unico video gigantesco. Quindi vi invito ad andare in descrizione e trovare la playlist all'interno della quale troverete la serie di video e quindi potete andare a trovare il video che vi interessa maggiormente. E ora possiamo cominciare ad andare a vedere quindi il focus per quanto riguarda Legend of Blood. E possiamo cominciare con i tratti di battaglia e Queen Majesty con il primo dei tratti di battaglia che è Immortal Majesty. In questo caso è cambiato rispetto a quello che avevamo potuto vedere per la Legend of Blood di Legends of Nagash, che allora permetteva di ridurre di uno la bravery per quanto riguardava le unità. Ecco che in questo caso invece permette che se un'unità nemica fallisce il test di Battleshock mentre è entro tre pollici da una qualsiasi unità Legend of Blood Vampire, ecco che quell'unità nemica che ha fallito il test di Battleshock perde di tre modelli addizionali che scappano a causa del test di Battleshock. Quindi diventa molto interessante. Da un lato effettivamente è vero che abbiamo perso il Malus, ma è anche vero che questo Malus lo abbiamo eventualmente con gli reanimati d'orros che abbiamo dalle abilità in generale per quanto riguarda il Sublight Gravelords e inoltre eventualmente possiamo combinarlo con quello che è il tratto comando sempre della Legend of Blood che è sul Crushing Content che vedremo comunque più avanti. Quindi è molto interessante. Da un lato quindi abbiamo che siamo vincolati per beneficiare delle opzioni di avere anche altri Malus derivanti o da altri modelli o da altre regole. D'altro canto però è anche vero che abbiamo un vantaggio che facendo fallire al nemico i test di Battleshock permettiamo anche magari di cancellare unità intere perché queste scapperanno in un numero maggiore di modelli. E' anche vero d'altro canto che bisogna essere entro tre pollici e altro quindi è limitata ma è comunque funzionale perché i vampiri con la Legend of Blood su una delle componenti essenziali dell'armata stessa. E il successivo tratto di battaglia per quanto riguarda Legend of Blood è Favored Retainers che è completamente diverso da quello che abbiamo avuto come equivalente nelle Legends of Nagash. Ecco che qui si ignora i modificatori negativi per colpire e per ferire, per gli attacchi fatti con le armi da combattimento, per le unità amiche della Legend of Blood Death Rattle unit quindi le unità della Death Rattle sono quelle che siano totalmente entro 12 pollici da un'unità amica di Legend of Blood Vampire notare che non è specificato hero quindi basta una qualsiasi che abbia la keyword vampire o totalmente entro 18 pollici quindi molto più semplice da un'unità amica di Legend of Blood Vampire questa volta hero che però deve essere generale quindi solo se generale è sia vampire che ovviamente hero ed ecco che quindi questo diventa molto interessante perché permette di sfruttare molto proprio l'unità Death Rattle ecco che in questo caso va combinato facilmente con Reanimator Oro e comunque con le varie abilità dell'alleanza delle subreddicative lord in generale quindi diventa molto interessante ecco che questo ottiene una sinergia non da poco perché dobbiamo tenere questa azione che possiamo dare tutti i mouse che vogliamo a queste unità con la keyword Death Rattle e allo stesso tempo non avere alcun malus quindi possiamo veramente avere un'attevole capacità per i tiri per colpire e per ferire di implementare la capacità di danno che possiamo infliggere quindi sicuramente molto interessante e poi abbiamo i tratti di comando chiamati anche strumenti della volontà di Neferata e il primo che andiamo a vedere di questi tratti di comando è violenza premeditata che dice che se un tiro non modificato per colpire per un attacco effettuato con un'arma da combattimento di questo generale è pari a 6 ecco che quell'attacco permette di effettuare due tiri per colpire invece che uno si fa i tiri per ferire e per salvare per ciascun colpo che sia il risultato questo diventa molto interessante molto dipende dal fatto se venga considerato soltanto il portatore o tutto il modello ma dato che si tratta in generale in teoria dovrebbe essere tutto il modello quindi se si prende un modello che ha notevoli sorgenti di attacchi ecco che permette di amplificare ulteriormente l'effetto di questo tratto comando su questo modello perché effettivamente permette di effettuare volendo più 6 e quindi più tiri per colpire ricordate che nel caso si effettino ferite mortali con que 6 il tiro addizionale che si va a creare non sarà una ferita mortale automatica ma si dovrà atterrare separatamente per quello perché è un tiro per colpire separato che non viene considerato essere avere un 6 come risultato quindi dobbiamo tenere in considerazione questa opzione ma rimane comunque un tratto comando da tenere in considerazione più è grosso più attacchi porta proprio il generale stesso il successivo è Soulcrushing Comptain che è qualcosa che abbiamo già visto in precedente come accenno e infatti permette di sottrarre 1 alla caratteristica di disciplina delle unità nemiche finché queste siano entro 3 pollici da generale questo permette di creare una bella combinazione con quello che è tratto in battaglia Immortal Majesty proprio della Legion of Blood però va ricordato che per applicare entrambe deve esserci un vampiro in mezzo quindi è più facile che girarsi un vampiro per applicare entrambe ma diventa interessante perché appunto permette che si riesce con l'abbassamento della disciplina a far fallire più facilmente il test di Bustle Shock a nemico facendo scappare poi più modelli quindi questo senso diventa molto molto interessante e poi abbiamo Aristocracy of Blood che permette di ritirare i tiri per la carica per le unità amiche Legion of Blood senza limiti al tipo di unità a patto che queste siano totalmente entro 12 pollici da generale questo è molto utile come tratto comando perché dobbiamo tenere in considerazione che si applica sia a generale stesso perché è totalmente entro 12 pollici da se stesso e poi ha molte unità perché un raggio di 12 pollici non è affatto poco bisogna ricordarsi che si deve essere totalmente entro 12 pollici ma questo vuol dire che sia comunque un diametro di oltre 24 pollici su cui agire ed è veramente come avere l'effetto sempre attivo dal pezzo centrale che è generale per quanto riguarda l'equivalente che normalmente sarebbe con incantesimi o abilità comando quindi diventa molto interessante per un livello sinergico della propria armata quindi molto utile e poi abbiamo Aura di Oscura Maestà che permette di sottolineare 1 ai tiri per colpire degli attacchi fatti con armi da combattimento contro questo generale da specificare una cosa non si parla di fasi di combattimento ma di attacchi fatti con armi da combattimento il che vuol dire che si applica anche in altre fasi a patto che siano delle armi da combattimento che vadano ad attaccare questo personaggio quindi diventa molto interessante perché permette di essere applicato anche in altre condizioni quindi sicuramente datene in considerazione se si vuole soprattutto usare qui di generale come modello per andare in combattimento e quindi applicare maggiormente l'effetto di questo dato comando e poi abbiamo Volkin Death che permette qualora si ottenga un risultato al tiro per ferire pari a 6 con un'arma da combattimento da parte di questo generale ecco che l'attacco infligge un numero di ferite mortali pari alla caratteristica di danno dell'arma usata per l'attacco e la sequenza attacco termina quindi bisogna ricordare che funziona soltanto se il tiro per ferire ha un valore pari a 6 non modificato e si effettua un numero di ferite mortali pari al danno dell'arma questo diventa molto interessante se il modello ha un numero molto alto di attacchi in questo caso si applica lo stesso problema che abbiamo visto per Premeditated Violence ovvero bisogna vedere se si applica anche la cavalcatura per poter effettuare questi attacchi nel qualora caso diventa molto interessante perché qualora soprattutto se abbiano molti attacchi ecco che è molto più facile infliggere ferite mortali inoltre è ancora vero che se questi attacchi fanno anche un numero non indifferente di danni si effettuano anche più ferite mortali quindi potrebbe essere sicuramente un tratto comando a tenere in considerazione qualora si usino dei modelli che portino un volume notevole di attacchi e quindi abbiano anche più possibilità di ferire quindi più possibilità di generare dei 6 soprattutto se questi attacchi hanno anche un alto valore di danno e poi abbiamo Sanguine Blur che permette a unità amiche senza alcuna limitazione che iniziano un movimento di Pile In totalmente entro 12 pollici da questo in generale di muovere di alti 3 pollici quando effettuano proprio il movimento di Pile In questo è molto interessante però bisogna ricordare che si parla di unità che sono in combattimento quindi bisogna ricordare che sì 12 pollici non sono pochi ma si deve essere totalmente entro questi 12 pollici quindi è sicuramente un qualcosa che bisogna tenere in considerazione qualora si voglia prendere questo tratto comando per poi sfruttarlo quindi dovete tenere in considerazione che il posizionamento generale è molto importante per sfruttarlo a dovere ma molto utile e poi passiamo agli artefatti del potere con i tesori della corte di sangue ecco che abbiamo Ring of Dominion e questo permette ogni qualvolta il portatore è selezionato per combattere nella fase di combattimento deve questo selezionare un modello nemico entro 3 pollici dal portatore e tirare un dado al 5 più ecco che si può scegliere un'unità da combattimento di quel modello e l'unità di quel modello soffrirà un numero di ferite mortali pari alla caratteristica di danno dell'arma che si è scelto ricordando però che non si può scegliere un'arma da combattimento che si riferisce a una tabella di danni o abilità per determinare il danno stesso quindi questo è un problema ovvero ha molte limitazioni perché non si può scegliere uno che ha un'abilità non si può scegliere uno che ha una tabella dei danni inoltre il problema più grosso è sempre quel 5 più è vero che tecnicamente si può essere scelti per combattere più volte nella fase di combattimento quindi si ha più possibilità nella stessa fase di combattimento per applicare l'effetto ma allo stesso tempo è vero che si ha una gamma di scelta limitata per quanto riguarda le armi a disposizione oltretutto di quelle che eventualmente possono effettivamente fare parecchie ferite mortali quindi è sempre un problema in questo senso rimane comunque interessante ma il gran numero di limitazioni e soprattutto il tiro di dado che è al 5 più quindi non è semplice da ottenere è quello che effettivamente limita maggiormente la possibilità di sfruttare a dovere questo artefatto che rimane comunque buono ma allo stesso tempo la quantità di limitazioni incorporate lo fa a mio avviso svalutare molto come scelta tra gli artefatti che si possono prendere e poi abbiamo Shade Class Tecanta che permette dopo che le armate sono state schierate ma prima che il primo turno di battaglia inizi di selezionare un eroe nemico sul campo di battaglia e questo è il primo limite per quanto riguarda questo artefatto perché se l'eroe per cui ci interessava effettivamente a far funzionare questo artefatto è stato posizionato in riserva non è sul campo di battaglia e quindi non può essere scelto ed è questo il momento in cui viene scelto comunque nella fase hero se il portatore e quell'eroe sono sul campo di battaglia ecco che si tira un dado se il tiro è uguale o superiore al numero del turno di battaglia in corso ecco che quell'eroe nemico soffre una ferita mortale questo diventa abbastanza interessante perché comunque è molto buono ad esempio il primo turno di battaglia essere sicuro di fare una ferita mortale al nemico però diventa sempre meno utile man mano che i turni di battaglia procurediscono questo potrebbe comunque essere utile per sezionare magari dei maghi nemici o dei modelli che tendono a nascondersi o che bisogna cominciare già a danneggiarli da subito nel più celere possibilità possibile quindi ci sono queste però limitazioni che bisogna tenere in considerazione ovvero più si procuredisce nei turni meno utili diventa questo artefatto e che appunto l'eroe in questione deve essere sul campo di battaglia dall'inizio per poter effettuare questi danni quindi sicuramente è utile perché può permettere di danneggiare o tenere sotto controllo o diminuire magari la potenza carlando le ferite di quel modello quindi diventa interessante però ha delle limitazioni che vanno tenute in considerazione e poi abbiamo Orb of Enchantment che un'unica volta per battaglia sola volta per battaglia all'inizio della fase di combattimento permette di scegliere un hero nemico entro tre pollici dal portatore e tirare un dado altro più quell'hero non può essere selezionato per combattere in quella fase questo diventa molto interessante per diversi scenari perché da un lato possiamo avere un modello che ha una capacità di combattimento notevole che appunto va contro un altro modello molto forte e col tre più si assicura che quel modello non possa rispondere e si combatte oppure ancora si può avere una massa di modelli che combatte contro quell'hero che però non può rispondere magari supportata da un modello che normalmente non avrebbe una grande capacità di combattimento ma che rischia costando magari poco col tre più per appunto tenerlo fermo perché vi ricordo che è sempre un tre più non è una sicurezza è un tre più che se funziona va se non funziona l'uso è stato consumato comunque quindi è un unico come opzione altresì può essere anche un modo per far sì che quel modello che magari è molto forte in combattimento perda proprio quel turno di combattimento che potrebbe essere utile e quindi diventa molto interessante perché appunto permette di essere utilizzato per negare una grossa capacità offensiva e quindi magari sopravvivere e bloccare quel modello per un turno può essere molto utile però vi ricordo che ha delle limitazioni quindi può essere preso è molto strategico ma ha utilizzato con accortezza e poi abbiamo sul bound garments che permette di aggiungere uno ai tiri salvezza per gli attacchi effettuati contro il portatore e questo a prescindere che siano da combattimento o da tiro quindi sicuramente un ottimo artefatto da scegliere per proteggere meglio il personaggio in questione e poi abbiamo un artefatto molto interessante e molto utile che è Obliette Arcana che permette una volta per fase nemica quando un mago nemico lancia con successo un incantesimo entro 18 pollici dal portatore e quell'incantesimo non è disperso anche se un mago amico ha tentato di disperdere quell'incantesimo stesso prima di risolvere gli effetti di quell'incantesimo si può tirare un dato e al 5 più quell'incantesimo è disperso questo è veramente molto interessante e molto utile perché da un lato permette di amplificare la capacità di dispersione dall'altro permette anche di dare magari a dei modelli che non hanno la possibilità di disperdere di poterlo effettuare quindi vuol dire dare a un modello che normalmente magari non è un mago di poter disperdere oppure tentare nuovamente disperde un incantesimo che si voleva tentare la dispersione ed è fallita o ancora semplicemente di rinforzare la fase di dispersione perché si ha gli equivalenti di un tentativo addizionale anche perché calcolando come funziona la fase magica avere la possibilità di con una possibilità su tre poter disperdere un incantesimo non è male quindi sicuramente è un artefatto da ricordare e tenere in considerazione e poi abbiamo amulet of screams che un'unica volta per battaglia una sola quando un mago nemico casta con successo un incantesimo e questo non viene disperso ecco che si può dire che il portatore utilizzerà proprio l'amulet of screams se lo si fa ecco che il mago che ha castato quell'incantesimo soffrirà di tre ferite mortali dopo che l'effetto dell'incantesimo si sarà risolto questo diventa molto interessante per diversi motivi uno perché si può eventualmente anche uccidere il mago con le ferite mortali che si vengono a causare oppure lo si può debilitare magari per favorire altre opzioni ma anche pensate semplicemente ai modelli di una certa grossezza che sono anche maghi e hanno un profilo dei danni con questo sistema si potrebbe fare in modo che si sfrutta il fatto che quel mago casta in incantesimo per diminuire facendo ferite mortali la sua capacità offensiva nelle altre fasi semplicemente perché lo si fa abbassare sulla tabella quindi potrebbe essere anche quello un modo interessante il vero problema per quanto riguarda questo amuleto è che è un unico uso quindi bisogna fare attenzione di quando si andrà a utilizzarlo però allo stesso tempo potrebbe essere tattico quindi va utilizzato con accortezza ma può essere molto interessante quindi la legge blood è veramente molto interessante vi permette di creare una varietà di armate veramente molto ampia ricordate che dovete combinare quelle che sono le regole le abilità i tratti di comando gli artefatti da legge of blood con le abilità generali dei subgrat crevelors per avere effettivamente un quadro completo e vi ricordo che in descrizione potete trovare la playlist con tutte le varie regole per quanto riguarda i diversi tipi di legioni o dinastie che andrete a scegliere e sempre anche quelle che sono le abilità generali per quanto riguarda i subgrat crevelors che sono una parte essenziale per poter giocare ma la legge of blood in sé veramente vi permette di creare una combinazione molto variegata subito se andate a combinare con quelle che sono le varie abilità quelle che sono le abilità a comando quelle che sono le unità stesse che avete a disposizione nel battle tone dei subgrat crevelors quindi creare qualcosa di molto personalizzato ad animodo da Dynamode per questo video è tutto vi invito a mettere mi piace a iscrivervi al canale a suonare la campanella e a lasciare un commento se siete interessati ad avere specifiche e ulteriori video riguardo questo tipo di video oppure se siete interessati a semplicemente assinarmi qualche domanda o qualche video a cui potete essere interessati da Dynamode è tutto alla prossima grazie a tutti